Ciao a tutti, sono Piermarini Francesco, sono il presidente dell'associazione Giovani Anziani Moninetto Oltretorrente, che è situata a Parma. L'associazione è un'associazione storica che ha più di 30 anni, però dato il problema del Covid è rimasto chiuso negli ultimi due anni, che sono il 19, il 20, l'associazione è ripreso nel 21, alla fine del 21, con zero soci. Grazie al progetto Riapriamoci ci ha dato veramente una grandissima opportunità. Noi ci siamo basati come opportunità di intraprendere la fiscalità che in questo momento hanno bisogno le persone, quindi parliamo di dichiarazioni di reddito, parliamo di iscrizione delle rette, dell'iscrizione a scuola, delle mense, dell'agenzia di riscossione, successioni. Abbiamo fatto uno sportello fiscale all'interno e all'interno ha portato veramente parecchie persone. Abbiamo recuperato più di 60 circa soci nuovi, i quali abbiamo dato un grandissimo servizio. Io spero in futuro, e sicuramente riusciremo a portare avanti questo tipo di discorso e poter incrementare con altri soci nella nostra nuova associazione, perché purtroppo devo dire nuova associazione. Ringrazio veramente il progetto e spero che ce ne sia un altro a più presto. Grazie.